Che qualche volta quando il giocatore cade, l'altro giocatore sull'altra squadra lo aiuta. Quando tu aiuti un avversario. Il fair play è quando fai uno sport, comportarsi bene con i tuoi compagni e con gli avversari. Ad esempio quando sei sportivo e quando un avversario è per terra ti dai la mano per alzarsi. Il fair play è quando aiuti qualcuno. Quando sei sportivo uno si fa male, butti fuori la palla, quando aiuti un giocatore a rialzarsi. Dà la mano, chiede scusa quando ha fatto un fallo. Questo è il fair play. La prima partita. Il fair play, non sei come, come chiede. Il rispettarsi in campo. Quando io faccio un fallo a un ragazzo, lo devo aiutare, gli devo chiedere scusa e poi lo devo aiutare a rialzarsi. Rispettare i giocatori e rispettare tutta la gente. Il fair play è amicizia tra le squadre. Non bisogna prestigiare. Non bisogna prestigiare. Il fair play è quando... Il fair play è quando... Il fair play è quando... Provo dell'Europa